Soprimere la vita non è un diritto, la Pontificia Accademia per la Vita condanna alla scelta del Parlamento francese di rendere l'aborto un diritto costituzionale. Tensione Mosca-Berlino volano reciproche accuse, il Kremlin convinto del coinvolgimento diretto dell'Occidente in Ucraina e condanna le esercitazioni della Nato in Finlandia, Svezia e Norvegia. Il maltempo si accanisce sull'Italia, balanghe e bufere sull'arco alpino, in alto adige muore un sedicenne travolto dalla neve mentre stava sciando. Da giovedì al cinema un altro Ferragosto, sequel del fortunato Ferie d'Agosto, ancora una volta alla regia Paolo Virzi che dirige un cast di stelle. Buonasera, il Parlamento francese con 780 sì e 72 no ha approvato l'introduzione dell'aborto nella Costituzione. Per il Presidente Macron si tratta di un messaggio universale. Non esiste nessun diritto a sopprimere una vita umana, la dura condanna della Pontificia Accademia per la Vita. Cesare Cavoni La Francia blinda l'aborto nella Costituzione con una storica decisione, tanto da provocare la reazione della Pontificia Accademia per la Vita che sottolinea come nell'epoca dei diritti umani universali non può esserci un diritto a sopprimere una vita umana e nello stesso tempo la Pontificia Accademia sostiene la posizione della Conferenza Episcopale Francese che ha ribadito che l'aborto, che rimane un attentato alla vita fin dall'inizio, non può essere visto esclusivamente nella prospettiva dei diritti delle donne e si rammarica che il dibattito avviato non abbia menzionato le misure di sostegno per coloro che vorrebbero tenere il proprio figlio. Quindi manca sempre un diritto alla vita del nascituro? Beh, il diritto alla vita del nascituro sta nei nostri ordinamenti anche a livello europeo, però è un diritto che viene sacrificato in alcuni casi e c'è anche una concezione un po' vecchia, diciamo, di cos'è il concepito. Noi intendiamo, ormai è anche la biologia che ce lo dice, che c'è una continuità dal concepimento fino alla vita fetale e alla nascita. Qualcuno invece in termini giuridici vuole ridurre i primi mesi di una gravidanza come una vita che in realtà non sempre è alla pari di una vita umana piena. Dunque in tempi di guerra e difficili sotto il profilo economico e sociale, il problema principale per la Francia è l'aborto, vale a dire la soppressione di un essere umano nel grembo materno. Significa che c'è una giuridificazione di un bilanciamento di interessi, la vita del feto e la mamma che potrebbe avere anche condizioni precarie di salute, che però viene risolta nell'ottico di un diritto della madre e quindi è un punto di non ritorno. Altissima tensione e gelo diplomatico tra Germania e Russia e Mosca punta il dito contro le esercitazioni in Finlandia, in Norvegia e Svezia. Sono una provocazione, dice il Cremlino. Vito De Torre. Ad innescare la tensione tra Berlino e Mosca è un'intercettazione diffusa sui mezzi di informazione russi che riguarda alti ufficiali delle forze armate tedesche. Una conversazione in cui i militari discutono sul possibile impiego dei missili Taurus. Gli ufficiali tedeschi, nel colloquio intercettato dai servizi segreti russi, ragionano sul fatto che una volta consegnati i missili Taurus agli ucraini, Kiev avrebbe avuto lo strumento per colpire il ponte di Kerch. Infrastruttura che collega la Crimea alla Russia. A gettare benzina sul fuoco è l'ex presidente russo Medvedev, uno dei più stretti collaboratori di Putin. La conversazione intercettata, ha dichiarato Medvedev, è la prova che la Germania si sta preparando ad iniziare una guerra contro la Russia, risponde il ministro della difesa di Berlino. È assurdo il tentativo della disinformazione russa di far credere che la Germania voglia fare la guerra a Mosca. La Germania ha riconosciuto l'esistenza della telefonata tra gli ufficiali ma teme che il contenuto della conversazione sia stato contraffatto e su questo sta indagando. Dopo un incontro con l'ambasciatore tedesco in Russia, il ministero degli esteri di Mosca, con una nota ufficiale, ha fatto sapere che le azioni di Berlino, così è scritto nel comunicato, non resteranno senza una nostra ferma risposta. Proseguono gli attacchi israeliani su Gaza e quelli del Libano sul nord di Israele e si continua a trattare sulla tregua. Antonio Soviero. 14 palestinesi, tra cui due gemelli di cinque mesi, sono stati uccisi da un raid aereo israeliano su queste case a Rafal, confine con l'Egitto. Le vittime appartenevano tutte alla stessa famiglia. Qui dormivamo e qui c'era il nostro letto, racconta, alla Al-Gharib. Non esiste un posto sicuro a Rafal o nella striscia di Gaza. Siamo persone normali, non abbiamo armi né razzi. Sono più di 30.500 i palestinesi uccisi in 150 giorni di guerra. Un missile sparato dal sud del Libano ha ammazzato un lavoratore straniero nel nord dello Stato ebraico. Da Beirut l'indiato speciale statunitense Amos Hochstein dichiara che una guerra tra Israele ed Hezbollah non sarebbe contenibile, mentre Hamas fa sapere che non può fornire una lista degli ostaggi ancora in vita perché si trovano in zone diverse, nelle mani di gruppi diversi. Al momento non c'è alcuna speranza di una tregua per l'inizio del Ramadan domenica. Ai colloqui in Egitto, disertati oggi dalla delegazione israeliana, tra le richieste di Hamas, il ritorno di 500 famiglie al giorno nel nord di Gaza. E poco fa Israele ha richiamato il suo ambasciatore all'ONU in seguito all'assilenzio sulle violenze sessuali attribuite ad Hamas. La decisione dopo la difesa a Palazzo di Vetro del capo dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, dopo che Tel Aviv ha accusato a fine gennaio 12 dipendenti dell'Urva di coinvolgimento nell'attacco del 7 ottobre di Hamas in territorio israeliano. Il disarmo è un dovere, è l'appello ai parlamentari fatto da numerose sigle cattoliche insieme alle chiese evangeliche. Nicola Ferrante. L'associazionismo cristiano torna in prima fila contro i mercanti di morte per fermare la modifica della legge 185 del 90 che regola l'esportazione di armi. Associazioni e movimenti cattolici chiedono che non venga toccata. È contro l'umanità, questa è l'indignazione, questa è l'indignazione di questa modifica che si appresta questo Parlamento, speriamo di no. Dice che non si può vendere armi, è molto chiaro, né a paesi dove sono violati i diritti umani, né a paesi che sono in guerra. Se osservassimo questo, le nostre armi, il problema è che i governi sono prigionieri del complesso militare industriale. Scorso 22 febbraio solo 42 senatori hanno votato contro e così il testo approvato ora in Parlamento per l'ok definitivo. Se passasse verrebbe meno il diritto di ogni cittadino a sapere se la propria banca investe o no in armi. Vorrei veramente con molta umiltà invitare le nostre comunità, i miei fratelli vescovi a dire davvero una parola coraggiosa, audace e dire che appunto noi non possiamo accettare la logica della guerra, non possiamo accettarla. C'è solo una logica da accettare, che è la pace. Qualcuno ha scritto appunto che non esiste una strada per la pace, perché la pace è la strada. La Corte Suprema degli Stati Uniti d'America conferma l'eleggibilità di Donald Trump in Colorado, uno dei 15 stati che domani vota. I giudici hanno accolto il ricorso dell'ex presidente contro la decisione della Corte Suprema statale di bandirlo per l'assalto a Capitol Hill. La sentenza farà da precedente anche per tutti gli altri ricorsi pendenti negli altri stati dell'Unione. Il maltempo si abbatte sull'Italia, abbondanti nevicate al nord con il rischio valanghe. In Alto Adige muore un giovane sciatore, la cronaca allora di Alessio Orlandi. Piogge, vento forte e neve. Colpo di coda dell'inverno che con tre perturbazioni porterà fino a domenica il maltempo in molte regioni d'Italia. Già ieri due valanghe, per fortuna senza vittime, hanno interessato la Valle d'Aosta. La prima, nella Val di Rems, ha isolato il comune che conta circa 80 residenti oltre ai turisti. La seconda Slavina ha invece colpito l'Alta Valle di Gressonei, dove una massa di neve ha ostruito l'ingresso di una galleria a Gabi. Le circa 4.500 persone rimaste isolate hanno avuto oggi due ore di tempo per lasciare la zona. In Alto Adige invece purtroppo un ragazzo di 16 anni è morto ieri pomeriggio dopo essere stato travolto da una Slavina mentre faceva un fuoripista in Val Passiria. Il cattivo tempo imperversa anche in Liguria. Smottamenti e piogge hanno colpito Genova e l'area metropolitana. Due frane nell'Appennino Reggiano, danni a causa delle forti precipitazioni nell'Alessandrino, con allerta arancione nel Torinese, nel Cuneese e in alcuni centri dell'Astigiano. Paura passata nel capologo piemontese per l'innalzamento del Po, allerta invece nel Pavese. Rimane alto il pericolo di valanghe nella provincia di Verbano, Cusio-Ossola. Adesso come adesso, se non qualche piccola Slavina che è naturale che scenda dai versanti un po' più ripidi, le valanghe più grosse e più pericolose non stanno dando segnali di movimento. Poi vediamo nelle prossime ore come sarà. Attenzione massima per il maltempo al centro-sud, con il rischio di veri e propri nubi fragi, prorogata l'allerta gialla in Sardegna per pioggia e vento forte, mentre la perturbazione che sta interessando l'area del napoletano ha portato la neve sulla sommità del Vesuvio. Parliamo adesso di migranti. L'anno scorso i rimpatri eseguiti dall'Unione Europea sono aumentati del 15%, lo fa sapere la Commissaria Europea agli affari interni, Ilva Johansson. A Bruxelles si lavora per un maggiore coordinamento tra gli stati e alla condivisione delle informazioni attraverso il sistema Schengen, ha aggiunto la Johansson. Strade italiane sempre più pericolose. Nel solo mese di febbraio sono morti 42 pedoni. Vediamo il servizio di Marino Galdiero. Più di un morto al giorno dall'inizio dell'anno nelle nostre strade e tra le cause principali c'è l'eccessiva velocità degli automobilisti. Si corre troppo, c'è poco da fare. Da gennaio ad oggi sono 76 pedoni deceduti, senza contare quelli che successivamente all'incidente hanno perso la vita. Facile pensare alle polemiche sui 30 km orari dopo questo rapporto, ma al tempo stesso non si può dimenticare il mancato rispetto della segnaletica con la gente investita mentre attraversa le strisce pedonali. Si dimentica che a 50 km all'ora viaggiare sulle strade servono 27 metri per fermarsi circa, fra tempo di direzione di un secondo e spazio di frenata. Si aggiunge poi la sbolla del terzo millennio, come l'ha definita l'ASAP, che è la distrazione. Siamo tutti catturati dall'uso del cellulare alla guida. Sono spesso gli anziani le vittime della strada, come il 91enne a Mantua e un 82enne a Prado, investiti mentre andavano a gettare le immondizie, casi molto frequenti nelle ore serali. Infatti, dei 76 morti in questi primi tre mesi, 44 hanno più di 65 anni. Credo che serva una politica di sicurezza più adeguata, di attenzione verso gli utenti più deboli della strada e le polemiche che si sono sollevate sulla questione dei 30 all'ora, con i vari flexi men che tagliano i misuratori di velocità, purtroppo non considerano questo dato estremamente grave. Ricorre oggi l'anniversario di quello che Papa Francesco definì un atto di insensata e diabolica violenza, le quattro religiose che nello Yemen vennero uccise in un attentato terroristico. Cristiana Caricato. Ogni qualvolta i bombardamenti si fanno pesanti, noi ci inginocchiamo davanti al Santissimo Esposto, implorando a Gesù misericordioso di proteggere e difendere noi e i nostri poveri e di concedere pace a questa nazione. Continuare a bussare al cuore di Dio. Così le missionarie della Carità di Aden concludevano la lettera inviata dallo Yemen, lacerato da un conflitto sanguinoso e invisibile per la comunità internazionale. Di lì a poco sarebbero state brutalmente assassinate insieme a 16, tra collaboratori ed assistiti. Era il 4 marzo del 2016, alle 8 del mattino un commando jidaista, fece irruzione nel compound dove le religiose curavano anziani yemeniti e poveri. Uccisero Suor Anselma, Suor Judith, Suor Margherita e Suor Reginette, donne arrivate da India, Kenya e Ruanda per servire gli ultimi, gli scartati, in un'area difficile e ostile alla presenza cristiana, oggetto di attenzioni e interessi geopolitici che avevano reso la situazione insostenibile e pericolosa da tempo. Le missionarie avevano deciso di restare e andarono incontro al martirio, che Papa Francesco definì atto di insensata e diabolica violenza. L'instabilità politica e sociale causata dal confronto armato tra i ribelli sciiti uti sostenuti dall'Iran e il governo dell'allora presidente Adi, teneva in ostaggio la popolazione. Dopo 8 anni di conflitto, centinaia di migliaia di morti e 21 milioni di persone a rischio fame, la situazione umanitaria è diventata insostenibile, mentre gli uti minacciano e terrorizzano il Mar rosso mettendo a repentaglio la libertà di navigazione. La memoria delle missionarie martiri accompagna ancora il paese del golfo sull'orlo del baratro. Da decenni si assiste a un esodo incessante di cristiani in fuga da persecuzioni e discriminazioni di ogni tipo. Secoli di storia, di cultura, di tradizioni liturgiche, artistiche e spirituali delle chiese d'oriente rischiano di essere spazzati via dalla follia del fanatismo religioso e dalla ferocia fondamentalista. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo al convegno cristiani d'oriente organizzato oggi a Monte Citorio. Venerdì pomeriggio Papa Francesco visiterà la parrocchia romana di San Pio V in zona Aurelio con Paolo Fucile. Andiamo allora a vedere come si stanno preparando il parroco e i fedeli. Io l'ho saputo perché è venuto Monsignor Fisichella, pro-prefetto di Castello dell'Evangelizzazione e mi ha comunicato due settimane fa questa notizia bellissima. Il preavviso è stato poco, vista anche la breve distanza. La parrocchia romana di San Pio V in zona Aurelio aspetta con impazienza Francesco venerdì alle 4. Ovviamente sono tutti in fermento perché tutti vorrebbero vedere il Papa e capire che cosa succederà. Naturalmente non possiamo accontentare tutti perché la Chiesa ha una capienza limitata, però è bello là. L'appuntamento è la 24 ore per il Signore, ricorrenza istituita a inizio pontificato da Bergoglio stesso a metà quaresima. Chiese aperte anche di sera e di notte per accostarsi al confessionale in un orario insolito certo, però magari più pratico. Teniamo presente tutte le persone che la mattina escono di casa e tornano la sera tardi anche per il lavoro. La 24 ore in parrocchie e diocesi del mondo intero inizia appunto con la liturgia che il Papa celebrava all'inizio a San Pietro, adesso in una parrocchia di Roma e spesso ha colto l'occasione per confessarsi anche lui prima di confessare ai penitenti. A San Pio V saranno circa una decina, indicati per metà dal parroco. Sto pensando ad alcune persone che forse hanno proprio bisogno dell'incoraggiamento della riconciliazione, in modo particolare di stare davanti al Santo Padre anche, no? A presentare la propria vita. Nel mondo 37 milioni di bambini sotto i 5 anni sono in sovrappeso, un problema che riguarda anche l'Italia. Caterina Dall'Oglio. L'obesità è stata recentemente riconosciuta in Italia come una malattia. Si associano numerose patologie croniche, tra cui diabete, ipertensione arteriosa, problemi respiratori e disturbi psicologici come depressione e ansia. Inoltre l'eccesso di peso aumenta il rischio per alcuni tipi di tumore. Pertanto l'obesità non solo riduce la salute e la qualità di vita delle persone che ne sono affette provocando una sorte di invecchiamento precoce dell'organismo, ma impatta anche sui costi sanitari. A cosa è dovuto? All'abbandono della dieta mediterranea, che è ben noto essere il miglior modo di alimentarsi e nutrirsi. Quindi ricordiamo una dieta nella quale è prevista una quantità di frutta e verdura in maniera importante e significativa e un uso intelligente e nella giusta quantità di proteine animali, carne e pesce. Quindi prevista una porzione giornaliera ma alternando carni rosse, carni bianche e pesce. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità l'Italia non è immune da questo problema. Si stima che quasi metà della popolazione adulta abbia un eccesso di peso, il 43%. Bisogna ricordarsi che tranne i rarissimi casi in cui esistono delle obesità, che sono delle obesità costituzionali o genetiche, obesi si diventa. L'allarme è alto, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha coniato il termine Globesity per indicare l'epidemia di obesità che calpisce adulti e bambini in tutto il mondo. Al cinema con Fabio Falzone per l'ultimo lavoro del regista Paolo Virzi, vediamo. Tra poco ti presento tutta la famiglia mia, poi mi vergogno. Rosponde lo stesso l'isola di Ventotene, l'incontro-scontro tra famiglia Molino e Mazzalupi è simile, ma le sfumature e i personaggi di contorno sono diversi e su tutto domina il tema della memoria. Ah no, onestamente questa cosa del confine a Ventotene non avevo mai sentito, ma fatemi capire, ci stava la dogana, quando è all'estero. La famiglia Molino accompagna l'ex giornalista dell'Unità Silvio Orlando, gravemente malato, sull'isola per un ultimo ferragosto. Vicini di casa i Mazzalupi schierano la coppia Ferilli De Sica, ma soprattutto una giovane regina del web e il suo inquietante promesso sposo interpretato da Vinicio Marchioni, decisamente spostata a destra, e la coppia è sicuramente tra i personaggi più riusciti del film. Questa volta, più che al conflitto, si assiste a una certa omologazione tra persone e personaggi, comunque molto più di un'operazione a nostalgia. Il ritratto di ciascun personaggio compone un puzzle, che forse è proprio un tentativo di raccontare quella cosa che non si può dire a parole del sentimento del nostro tempo, ma che forse può dirlo un film. Meglio ieri o meglio oggi, non il film, ma proprio il racconto dell'Italia che noi vediamo. È difficile tornare indietro, mentre invece il mantenersi esseri umani, insomma, non scivolare. Dovremmo cercare di mancare. Ecco, nel mondo animale, quello dovrebbe invece essere una ricerca costante, al di fuori di quanto è complesso vivere o meno. TG termina qui. Questa, come tutte le altre edizioni, potete vederle sull'app Play 2000. Dopo di noi, la prima puntata della serie The Chosen, la serie bella vincente sulla vita di Gesù. È tutto, a voi l'augurio di una buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.